Buongiorno a tutti, oggi abbiamo la gioia di avere qui presso il nostro centro missionario Suora Uciglia Maria Castiglio. Benvenuta in Italia, benvenuta presso il nostro centro missionario. La storia che Suora Uciglia ci racconterà è molto interessante, perché Suora Uciglia è una suora brasiliana che è venuta in Italia per degli studi ed è venuta in Italia per farci conoscere il nostro frate Cappuccino della Lombardia. Benvenuta, Irmanno Uciglia, benvenuta in Italia. Quindi, prima cosa, come prima cosa, la sua congregazione, la congregazione religiosa della quale fa parte, dove nasce, dove è nata e quali sono i carismi principali? La congregazione religiosa è delle Suore Missionarie Capuccine, che è stata fondata da Servo di Dio fra Giampietro da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Fondati nel 18 dicembre del 1904 e la prima casa di fondazione è stata a Belen, capitale dello stato del Parà, nella zona amazzonica del Brasile, nello specifico la prima casa nel Prata, Colonna do Prata, dove i nostri missionari Cappuccini erano già presenti alla fine del 1800-inizio del 1900. era per lavorare con i figli degli indi, con i figli, con i figli, con le scuole, per lavorare. E il nostro fondatore procurava religiosi per là, e era difficile, per causa del massacro di Val Talegri, la regione pobra, e le congregazioni avevano medo, non ci erano qui. In quella zona vi era un ambiente molto difficile, i frati Cappuccini della Lombardia avevano bisogno di aiuto, soprattutto nel lato dell'istruzione femminile. Ricordiamo che già all'inizio della loro missione avevano chiesto aiuto alle congregazioni femminili, ma la situazione era talmente grave come malattie, come male alimentazione, come sanità, che solo le suore Cappuccine di Madre Rubatto, la cui sede è a Genova, ed era a Genova, avevano risposto. A causa del massacro di Alto Allegre, nello stato del Maragnao, purtroppo sono state assassinate le sette suore Cappuccini di Madre Rubatto. Questo aveva reso ancora più difficile l'arrivo di altre congregazioni femminili. Però, fra Gian Pietro da Sesto e San Giovanni, ha avuto un'idea che ha cambiato proprio la storia della missione. E rezò molto, ouviò i frati più vecchi, tipo, vamos volare. E avevano cinque giovani nel Ceará, Canindè, oggi è un grande santuario franciscano, convidò i cinque giovani, che sapevano che erano scrittime religiose, e con loro levò a Belen e la fundò la congregazione. La grande idea di fra Gian Pietro da Sesto e San Giovanni è stata non di insistere con le congregazioni religiose dall'estero, ma già in quel momento, quindi all'inizio del 1900, far nascere la nuova congregazione da ragazze brasiliane. Io vorrei dire uno dei motivi, anche, molto importanti. O problema dell'Alto Allegri, è il problema culturale. Fundando la congregazione con le persone brasilele, hanno diminuito il problema della cultura, perché hanno una cultura local, del paese, e si tornò tutto più facile. La strage che era successa ad Alto Allegri aveva delle ripercussioni culturali, tra i coloni stranieri, soprattutto che arrivavano dal Portogallo, i missionari italiani che stavano cercando di aiutare sia nell'evangelizzazione che nella promozione umana, e le realtà indigene di quella zona. Questo ha creato una serie di attriti, c'è stato molto lavoro da parte dei coloni per cercare di fare una sorta di lavaggio del cervello agli indios, e questo ha causato questo massacro, della quale sono morti purtroppo dei frate Capuccini, e sono morte le sette suore Capuccine, che erano tutte di origine italiane. La nuova congregazione nasceva da cinque ragazze brasiliane della città di Canindè, nello stato del Seara, vicino alla capitale Fortalesa, ed erano cinque giovani dell'ordine francescano secolare, il terzo ordine francescano, che hanno deciso di rispondere a Fra Giampietro, e hanno iniziato questa nuova congregazione. Oggi noi abbiamo 106 anni di fondazione. Fra Giampietro ci sono 106 anni dalla fondazione, Fra Giampietro, che ha avuto una vita molto complessa nelle opere, in tutte le visite, in tutti i chilometri che ha fatto in un'area vastissima, parliamo di migliaia e migliaia di chilometri, è morto solo dopo sei anni dalla fondazione, nove anni, nove anni dalla fondazione dell'ordine. E quindi anche le suore stesse non hanno potuto conoscere a fondo la profondità dell'animo di questo frate. E anche questo è motivo di questa conoscenza, di questa ricerca, adesso, di tutti questi anni. E Fra Giampietro ha lasciato una lettera testamento. Suore missionare nella missione e per la missione. E lui diceva, andate con coraggio e allegria a evangelizzare tutte le genti, tutti i popoli. È, 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 derramando sopra loro l'infinita misericordia di Dio. Diffondendo sopra loro l'infinita misericordia di Dio. Fino ad oggi ci sono 45 case delle sue missionari cappuccine in tutto il Brasile, dal sud-est di San Paolo fino all'estremo nord in Amazone. E nel Brasile centrale, noi stiamo, nel Mato Grosso, anche con gli indiani, noi stiamo lavorando nelle fronteiri. Continua lavorando nelle fronteiri. E stiamo anche in Africa, tre case in Africa, in Mozambique, e una casa in Ecuador, in Esmeralda, in un lugar tanto distante. Quindi anche tre case in Africa, nello stato del Mozambico, e anche nello stato in Ecuador, nella città di Esmeralda. E la cosa molto interessante è che lei è venuta in Italia proprio per approfondire gli studi e la ricerca sul fondatore, che è il nostro Fra Giampietro, che conoscete più voi che qui in Italia. Ed è per questo anche che ci deve aiutare. E noi stiamo sapendo, desde il 1996, noi começiamo il processo di beatificazione. Nel 1996 inizia il processo di beatificazione di Fra Giampietro. Perché noi vogliamo canonizzare il nostro fondatore? Pela necessità che noi abbiamo di appresentare, per noi e per appresentare ai giovani che si appresentano, i valori, la spiritualità di questi missionari. Le suore e le consorelle hanno deciso di iniziare questo processo perché avendo avuto questa forte testimonianza, questa profondità di tutto quello che ha fatto Fra Giampietro, era necessario farlo conoscere e testimoniarlo a loro volta per i giovani e per tutti coloro che non lo conoscono. Il processo fu aperto nella diocese di Fortaleza nel 1996. Nel 2004, l'incerramento, l'incerramento, l'incerramento e l'incerramento per Roma. Oggi è il servo di Deus. Ora noi stiamo facendo un libro scientifico, procurando, pesquisando per aprire il processo di beatificazione. Perfetto. Quindi nel 1996 è iniziato il processo nel 2004, la Santa Sede ha dichiarato Fra Giampietro servo di Dio. Adesso, Suora Ucilia, Irmalla Ucilia, sta scrivendo il libro scientifico per arrivare alla beatificazione di Fra Giampietro. È un libro scientifico e un libro delle virtù eroiche. Sono due dici. Il libro delle virtù eroiche e il libro scientifico. per entregarmo lì e ci amavo profondo per la missà. E lui saia viaggando, a due sei, a due sei, ma ningu'è sicurato. Lui è arrivato molto giovane e subito dopo l'ordinazione sacerdotale è arrivato in Brasile nel 1894. Il primo gruppo era arrivato solamente un anno prima. Si è unito e lui ha dato molta vita, ha animato moltissimo, spendendosi in missione, in promozione umana, molti chilometri, proprio anche fisicamente. e lui è marvelloso. Con il massacro di Alto Alegre un superiore, Fra Carlos, adoece e lui ha 33 anni e assume la missà nel momento più difficile e salvò la missà e lo fa crescere. Dopo il massacro di Alto Alegre che abbiamo visto prima, il superiore, che era Fra Carlo di San Martino Olearo, ha avuto gravi problemi fisici e Fra Gian Pietro a soli 33 anni ha preso in mano tutta la missione dei Lombardi in Brasile e ha veramente rianimato completamente. E leva a missà di Fortaleza del Ceará até l'Amazonas. Portando la missione da Fortaleza dello Stato del Ceará del Nord-Est fino all'estremo nord brasiliano dell'Amazonia, dello Stato di Amazonas. e ha lavorato molto in San Luiz nel Carmo che era dei Carmelitani in San Luiz. e ha fatto la reforma, fu il mestre, formatore. Dopo il superiore, fu a Belen. Lì, il convento attuale di Belen era lui che compro il terreno e costruì. Il convento di Caputini a Belen nasce completamente da Lugui. la provincia dell'Amazonas che è da Umbria oggi esiste perché fu il che levò la missione per là. I nostri confratelli Caputini della provincia dell'Umbria che oggi sono stabilmente nella missione di Alto Solimois sono lì hanno ereditato da Fra Giampietro quell'area dove questi due fiumi enormi si incontrano Rio Negro e Rio Solimois e i confratelli dell'Umbria in questo momento sono lungo il Rio Solimois. Questo uomo ha lavorato tanto che 45 anni parecì un velo di 80 di 85 ma la sua Rauciglia dice che a 45 anni nel momento in cui Fra Giampietro è morto l'aspetto esteriore proprio sembrava di una persona anziana di 90 anni proprio perché era stato consumato consumò a vita nella missão ma e ma ele dizia cansativa ma gostosa fadigas da missão la stanchezza è la cosa più bella della vita missionaria era mesmo un pai non era solo un superiore era un pai pai dos frades il pai da missão proprio era il padre della missão io ringrazio moltissimo suor Rutilia molto obrigado e speriamo di avere ancora contatti per questa ricerca questo studio approfondito che aiuta anche noi qui in italia in lombardia a due passi da sesto san giovanni a conoscere questa grandissima persona questa grandissima figura quindi spero di rincontrarla e di parlare ancora magari con dei punti dei quali ha approfondito dei punti che ha trovato in questi anni di ricerca in questo momento sua Ruciglia è la vice postulatrice della causa di beatificazione e quindi è proprio con lei che possiamo fare questo cammino di conoscenza del nostro servo di Dio io voglio fare questo pedito anche per miss io voglio contare con voi sentire un punto di apoio e che voi preparate tutto mando per voi espalhe e che il povo conoscenza cada vez che studo e mi approfondo e fico impressa sempre più sempre più che si conosce c'è sempre una scoperta della missionarietà della profondità molto obrigado realmente molto obrigado até la prossima